Questa non è Kipizza Festiva il barco, la cassa dritta Ma aspetta, dove sono gli appunti di filosofia dell'ultima lezione? Cavolo, neanche io li ho presi. Cosa facciamo? Vota Apocalypse e avrai Jovio Notes! Questa non è Kipizza Che bella questa panchina Ma sai che secondo me dovremmo metterla al Jovio Per fare lezioni agli intervalli fuori Ma guarda anche questa pianta, che bella! Perché non ne piantiamo al Jovio? Non ci mancano da fare questo sabato sera Non ne posso più di stare tutto in cui ero in casa Ti prego, io mi faccio fare qualcosa Ti prego Non sapete cosa fare il sabato sera? Feste, condivere, sputa vocalista e le avranno Sto pensandoci, ci sono veramente dei bei tenenti al Jovio Se ricalcio, chiudi basso? Volete diventare delle promesse del Como? Votate Apocalypse! Organizzeremo tornei con altre scuole Come per esempio il Volta o la Ciceri Sia interscolastici, come ha detto lei Ma anche al pomeriggio, al Jovio Tornei interni Dopo il Jovio non so cosa fare Anche io, zero idee, sto alla canna del gas Però ci sono i rappresentanti di istituto Potremmo chiedere a loro cosa hanno in mente Pensavamo di organizzare incontri con studenti di altre università diverse Molta diverse, così vi chiede le tue idee Oppure gruppi studio per studiare e imparare come si fanno i test d'ingresso Ma ti ricordi che bello che era il Jovio quando c'era il prombello con lui? Sì, sì, mi mancano i vecchi tempi Ti mancano i vecchi tempi? Voi state Apocalypse e ritornerà tutto ciò All'ombra dei cipressi e dentro l'urne con fortate di piante È forse il sonno della morte menduo? Gigi, e la cultura? Vero! Alle autogestioni proporremo dibattiti e conferenze sull'attualità Inoltre proporremo corsi di lingua pomeridiane Come per esempio russo, giapponese o cinese Tutto questo ovviamente se votate Apocalypse! Ciao, sono Marta Radelli Una delle candidate di sempre in lista, una lista della Ciceri E volevo dirvi di votare Apocalypse Che se venissero eletti collaborerebbero con noi e con molti altri Ciao ragazzi, mi raccomando, votate per la lista giusta E quindi votate Apocalypse! Vota Apocalypse! Ciao, sono Caste e anche io voto Apocalypse Ciao a tutti, sono Maria Butti e anche io voto Apocalypse Ciao ragazzi, sono Eugenia De Michelis, ex rappresentante Votate i miei figli che quest'anno facciamo un sacco di feste Mi raccomando, votare Apocalypse Io voto Apocalypse, fatelo anche voi Vota Apocalypse Votate Apocalypse Stavo sognando il range, giocavi Power Rangers Scendo il culo dal jet, lo appoggio sul Mercedes Io quelli come te